Ciao. Devo chiederti di farmi un grosso favore. Avrei dovuto partecipare a molti incontri e invece non l'ho fatto. Perciò mi potresti firmare questo foglio? No, purtroppo non posso farlo. È una questione di etica. E se... te lo succhiassi? Nella mia auto? A 17 anni vi è uscito di merda. Firmalo. È un piacere fare affari con te. Cazzo, cazzo, cazzo. Ru. Ti voglio bene. Anch'io.